Signore, signore, con noi, parchetta! Questa serata è particolare perché si fa il mandino malca! Ragazzi, a me sembra che mi stiate muovendo troppo questa sera, troppo, troppo, troppo! Ho deciso di mettere un letto, ok? È stato bellissimo suonare per voi anche questa sera, io vi ringrazio e speriamo di rivederti presto per la serata da badà! Adesso per voi c'è la Vicky che andrà avanti fino alle 9 di domani mattina, pensate! Incredibile! Grazie, alla prossima! Ciao a tutti! Ciao!